Sergio Anesi, allora siamo finita la gara qui a Leviote, la Fiso adesso si prepara a un lungo inverno, cosa succederà? Finita la gara, una bellissima gara che conclude una serie di altre gare organizzate molto bene nei diversi circuiti in tutta Italia. Quindi io desidero prima di tutto complimentarmi e ringraziare tutti quelli che hanno voluto dare una grande mano affinché lo sport dell'orientamento possa crescere anche in questa stagione. Approfitto dell'occasione per informare tutti che andremo all'Assemblea e quindi per il rinnovo della carica di Presidente e del Consiglio il 22 di febbraio, che è un sabato, e l'Assemblea si svolgerà a Bologna. Invito tutti ovviamente a essere presenti ma soprattutto in questo momento a cercare momenti di unità che possano garantire al nuovo Consiglio un gruppo di persone condivise che possano lavorare bene assieme e che possano portare l'orientamento ancora più in alto. Io credo ci siano tutti gli spazi per far sì che questo gruppo possa essere individuato e possa lavorare bene nella prossima consigliatura. 22 quindi, ripeto, il 22 di febbraio, probabilmente sarà a mezzogiorno l'inizio dell'Assemblea a Bologna e arriverà comunque a tutte le società, a tutti i presidenti, arriverà all'ordine del giorno. Sergio Anesi che oramai è un amico dell'Affiso, quindi potremo sempre contare su un buon consiglio di Sergio. Questo era il mio consiglio, il consiglio che ho dato a tutti affinché si arrivi a un'unità di intenti. Credo che la mia vicinanza al mondo dello sport ci sarà sempre e comunque e ovviamente al mondo dello sport anche dell'orientamento che ho conosciuto molto di più in questo anno e mezzo di commissariamento e ho potuto apprezzare anche la grande famiglia che riunisce tutti gli atleti delle diverse età e tutte le famiglie. Quindi è stata un'occasione per me di crescita a livello personale. Spero che in questo anno e mezzo di essere riuscito anche a dare degli stimoli ulteriori a questa federazione e come ripeto ci vedremo il 22 a Bologna. Grazie 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 Grazie